ciao bannis benvenuti su based italia un saluto da panoschi oggi primo video in cui presentiamo la nostra community nata da poco parteciperemo alla on chain summer e tra poco andremo a vedere di che cosa si tratta e siamo ragazzi builders italiani su base ci trovate come based italia infatti prima di iniziare ragazzi un bel like e iscrivetevi alle nostre pagine la mia personale di panoschi su x ma soprattutto la nuova pagina ragazzi based italia che trovate su x ci trovate ragazzi anche su telegram sul nostro gruppo ragazzi ci sono già le prime notizie come vedete quindi iniziate a entrare perché ci saranno tante novità per i primi ingressi ragazzi e come abbiamo visto anche soprattutto i channel su work cast ragazzi molto molto importante il social file di cui abbiamo già parlato e troverete i video nel nostro canale qui abbiamo il canale ufficiale di base italia ragazzi mi raccomando entrate troverete tutti i post giornalieri tutte le insomma le giveaway contest dell'on chain summer che è partita ieri primo luglio durerà tutta l'estate ragazzi quindi allacciate le cinture e andiamo a vedere di che cosa si tratta trovate il mio articolo ragazzi sia in frame su work cast ma anche online grazie a paragraf dove vi parlo in sostanza della nuova on chain summer la prima edizione c'è stata lo scorso anno molto importante in cui sono nati tanti progetti di cui adesso conosciamo l'entità come zora ad esempio come friend tech insomma ci sono state tante dap che sono esplose e in questa on chain summer tutti i builders i creativi le community cercheranno di costruire qualcosa di nuovo che ci permetta onboarding on chain di arrivare a un miliardo di utenti che quello che jess pollack e coinbase si prefiggono per i prossimi anni un piccolo escursus ragazzi innanzitutto ritorno tionfale come leggevi leggete costruzione collettiva inclusiva ragazzi perché non è soltanto per i dev ma anche per tutti gli altri che magari erano esclusi nelle altre raccolte fondi dedicate solo ai dev qui invece possiamo costruire qualsiasi cosa collezioni community tutto quello che vi viene in mente dalla vostra creatività su on chain summer può trovare posto e quindi una chiamata raccolta per tutti i creators ci saranno delle build atone delle sovvenzioni per tutti merchandising estivo pazzesco ragazzi che partirà ne parleremo e come vi dicevo l'obiettivo di un miliardo di utenti on chain utilizzate lo smart wallet ragazzi di coinbase parleremo ne parleremo poi nei prossimi giorni in un video accurato transazioni sponsorizzate usdc stablecoin globale che facilita le transazioni su coinbase ed ecco qui l'on chain summer che durerà fino al 30 ma di concreto di che cosa stiamo parlando se andiamo ragazzi sul nostro sito vedete una delle prime attività che riguarda la nostra community italiana eccolo qui è nato il primo nft dedicato alle community su work cast che besi e besed it l'opera dell'artista ragazzi mini normal m italiana seguitela come ho fatto adesso molto molto brava e c'è questo nft molto figo ragazzi creato da quest'artista come vedete ispirato alle collezioni un po più artistiche se vogliamo ma come leggiamo anche dalla mia pagina ispirata alle vacanze italiane del 1960 quindi un buon sapore da dolce vita molto apprezzato per gli amici internazionali le referenze erano appunto quella dell'on chain summer e trovate anche riferimenti alla repubblica italiana lo trovate in free mint ragazzi su zora fatelo perché servirà poi anche per la airdrop di zora avere dei minting sia creare collezioni ma anche mintare collezioni qui trovate la nostra ragazzi molto semplice pagate credo solo le 2 dollari e 65 di fee per le collezioni gratuite su zora ma vi permetterà di partecipare all'airdrop detto questo mi raccomando ragazzi primo nft ma ci saranno altre sorprese in futuro per il nostro canale per i builders per tutti i base di italiani quindi mi raccomando seguiteci altre operazioni da fare ragazzi su base andiamole a vedere ad esempio seguire anche il canale di base molto importante perché come vedete ci saranno tante tante attività anche questa e tutte davvero invidiabili perché vi permettono di guadagnare dei fondi pure avere dei airdrop dei tanti token sub work cast ma ne parleremo nelle prossime puntate quando ci sarà anche i fi was frank e il nuovo ingresso che vi presenteremo nelle prossime live ragazzi volevo farvi vedere delle prime operazioni veloci da fare i primi progetti che sono usciti e secondo me sono interessanti il primo è moshicam ragazzi eccolo qua applicazione per cellulare prettamente infatti qua ce lo ricorderà se sostanzialmente fare delle foto e condividerle e l'opportunità di mintare le migliori scegliere appunto le vostre copertine create e to earn quindi crea e guadagna quindi ragazzi molto importante c'è un'attività legata ad essa recentemente ecco qui touch the grass ragazzi bisogna semplicemente tema erba toccare l'erba questo è il tema e utilizzare una di queste applicazioni per ottenere dal primo al 7 luglio postarlo sul canale work cast di base creators e vediamo dove lo troviamo ragazzi ve lo faccio vedere eccolo qua base creators bisogna postarlo qui tutte le vostre opere ecco le prime ragazzi già le vedete e poi utilizzare appunto omoshi come abbiamo visto zora dracula di cui vi parlerò e parteciperete appunto a questo concorso in cui ci sono in palio ben 3 attraverso round uno dei progetti su work cast molto molto importante detto questo ragazzi altro progetto che mi sento di consigliarvi e custom punks molto divertente secondo me sarà molto utile in futuro si tratta in sostanza di costruire il vostro punks personale andare su questa piattaforma ragazzi ragazzi molto figa dove potete decidere tutto a partire insomma da 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 qualsiasi skill per quanto riguarda il corpo i capelli i cappelli insomma una volta che completate il vostro oppure potete fare anche random ragazzi il vostro punk andrà poi clemato qui ragazzi ci saranno diversi prezzi poi in base a alcune fit che utilizzate se a pagamento o meno ma in sostanza molto economico siamo sui 5 dollari se utilizzate alcuni sfondi a pagamento e cose del genere quindi intorno ai 5 dollari più che onesto quindi altre operazioni da fare secondo me sarà importante poi in sede di airdrop perché è stato ripostato proprio da coinbase altro interessante ragazzi poster alfa incredibile app vi collegate con il vostro coinbase wallet o altro wall e come meta mask e iniziate subito a creare i vostri potete scegliere grafiche potete scegliere nft template addirittura i main ragazzi quindi personalizzarli c'è il testo prendere i file avete tutta una sorta di canva ragazzi su web 3 on chain molto molto figa io ho fatto già le mie prime opere ma cosa più importante poi in sede di export potete fare sia il download ragazzi ma potete anche mintarlo e quindi mintarlo direttamente su base ethereum ozora o optimist o arbitrum andare direttamente sui social decidere il titolo la descrizione e la quantità quindi quel meme quel template questa vostra grafica sarà anche mintabile perché ricordate che su base tutto deve essere on chain e on board e quindi l'obiettivo è quello di creare tutto sul web 3 ultima da consigliarvi ragazzi e flor altra app per smartphone davvero figa ragazzi per nft per le vostre operazioni o anche come portfolio io ve lo consiglio ci sono anche degli nft gratuiti è super aggiornata ragazzi non può mancare nel vostro portafoglio ecco delle estensioni e delle app di app su base detto questo ragazzi non mi resta che salutarvi per questo episodio ci sentiremo presto un saluto a panoschi su base ed italia e su crypto for ciao banis ciao banis